Musica Vediamo ora come possiamo condividere in rete un quiz che abbiamo creato con HotPotatoes. Allora facciamo partire l'applicazione. Scegliamo Mix, cioè scriviamo una frase che deve essere riordinata secondo le regole della grammatica. Vedete che ho messo ogni singolo elemento su una riga diversa, in modo che verrà poi ogni singolo elemento mescolato nel quiz. Potrei anche mettere due elementi nella stessa riga, in questo caso starebbero assieme. Se qui è vistato questo pulsante, significa che dovrò in ogni caso utilizzare tutti gli elementi. Se non lo faccio, mi darà un avviso. A proposito delle lingue, se vado su questo pulsante, ci sono delle opzioni. Ecco, io qua posso per esempio anche cambiare la lingua in cui vengono poste le domande del programma. In questo caso è selezionato il tedesco. Adesso salvo questo documento, questo quiz, e lo salvo sulla mia scrivania. Però adesso vorrei salvare il documento che poi dovrò mettere in rete. Allora posso andare qua, su questo pulsante, clicco. Vedete che adesso il documento ha un nome HTML, cioè la versione per internet, posso mettere anche la L. lo voglio salvare anch'esso sulla scrivania, quindi faccio salva. Adesso è stato salvato sulla mia scrivania, posso vederlo nel browser. Ecco, questo è il quiz, come apparirà gli studenti. Quindi si tratta semplicemente di riordinare gli elementi. Controlliamo, è corretto. Posso uscire. Adesso si tratta di rendere disponibile questo quiz a tutti gli utenti della rete. Allora per fare questo ho bisogno di Dropbox. Apro la mia cartella Dropbox. E poi devo entrare nella cartella che si chiama Public. Adesso qua posso fare una nuova cartella che chiamo HotPotato. E qui trascino il mio documento HTML. Si sta sincronizzando. Ecco, adesso posso vedere il documento. Adesso col tasto destro o con Control e clic nel Mac vado nel menu e poi seleziono Copy Public Link, cioè in questo caso io avrò un link che potrò poi incollare nel mio sito che ho costruito ad esempio su Google Sites. E quindi rendere disponibile il documento. Se apro ora il mio documento Google Sites, la mia pagina, posso modificarla. Adesso faccio semplicemente Incolla. questo è il link alla mia nuova pagina. Quindi la seleziono. Clicco su Link. E adesso è un link cliccabile. Oppure posso fare anche una cosa più elegante, scrivere Quiz. Ho il testo che io voglio appaia nella pagina. Lo seleziono. Vado sotto Indirizzo web. Incollo ancora il link. Faccio in modo che quando si schiaccia questo link si apre una nuova pagina. E poi, ok. Salva. Ecco quello che vedrà l'utente nei due casi. E quindi nel primo caso vede il link effettivo. Nel secondo vede Quiz. Ma si aprirà una nuova pagina con il Quiz. Che quindi chiunque adesso può fare. Perché è condiviso in rete. Come potete vedere dall'indirizzo. È un indirizzo pubblico accessibile a tutti.